Bentornati alla nostra analisi del pensiero educativo pedagogico di Rosmini all'interno del quale collochiamo l'opera rosminiana, ossia il catechismo disposto secondo l'ordine delle idee. Nella nostra odierna puntata noi ricapituliamo il fondamento antropologico di quelle dimensioni di dignità umana e di famiglia riconnesse al concetto di educazione, come l'abbiamo sviluppato nella scorsa puntata, tirando poi nel prossimo paragrafo quinto anche le conseguenze didattiche del concetto rosminiano appunto di educazione. Ma prima vediamo la nostra attenzione sull'aspetto antropologico, perché è proprio il messaggio del cristianesimo che l'uomo non è semplicemente sostanza nel senso aristotelico, ma che è allo stesso momento e con la stessa dignità relazione. Se la enciclica Caritas in Veritate ripetisce che la rivelazione cristiana, cito dal paragrafo 55, che la rivelazione cristiana sull'unità del genere umano presuppone un'interpretazione metafisica dell'umanum in cui la relazionalità è elemento essenziale, Rosmini da un lato, nell'antropologia in servizio alla scienza morale, ha dimostrato che è stata proprio l'antropologia cristiana a contribuire all'antropologia la dimensione della moralità, e quindi della relazionalità. Dall'altro lato, nella filosofia del diritto, Rosmini ha rilevato che questa relazionalità, in quanto base morale dell'antropologia, è diventato, tramite il criterio della dignità e dell'istituzione della famiglia, anche il criterio fondamentale per l'ordinamento sociale stesso. Abbiamo accennato questo già tramite il meccanismo della sussidiarietà, e per le ulteriori conseguenze. Dobbiamo rimandare ai corsi sulla filosofia del diritto di Rosmini. Per cui è importante sottolineare che Rosmini concorda in questo punto, anticipa quello che sostiene la carità sinmeritata, ossia che nella chiave cristiana l'uomo non è soltanto sostanza, ma allo stesso momento, con la stessa validità, anche relazione. La relazione non viene dopo, non viene prima, coincide con la sostanzialità. E questo appunto ci dà alla nostra organizzazione sociale lo specifico riconoscimento della dignità dell'uomo e della famiglia, e quindi anche per l'importanza del concetto di educazione. L'educazione, dice Rosmini, non può che perseguire ciò che è degno dell'uomo. Cioè l'educazione non può che perseguire ciò che è degno dell'uomo. Riconnessione tra educazione e dignità dell'uomo, in quanto persona. E su questo punto Rosmini afferma che la concezione dell'uomo persona, del cristianesimo, sia quella più degna di essere pedagogicamente ed educativamente perseguita. Ma nelle due dimensioni sociali, fondate sull'apporto morale del cristianesimo, l'uomo rimane ancora bisognoso, come dice Rosmini. Da un lato la nazione della dignità è puramente astratta e non conferisce alla persona un vero, real, fine della sua perfezione. La società può educare anche a riconoscere la dignità umana. La dignità umana può essere quell'elemento indisponibile per la società, ma per indirizzarla al vero e reale fine di questa sua perfezione, ci rimane un momento di vuoto all'interno dell'ordinamento finito. Perché questa è la dimensione, come abbiamo già visto, della trascendenza, della totalità. Dall'altro lato la famiglia può fornire un fine solo alla natura dell'uomo, come dice Rosmini, ma non alla sua personalità. Rosmini dice che nella famiglia l'uomo perseguita e arriva alla realizzazione dei beni della sua natura, ma non ancora alla realizzazione dei beni della sua persona, perché i beni della sua persona l'uomo realizza soltanto nel suo fine assoluto, in Dio, nell'essere assoluto. Quindi sia dignità umana che famiglia che all'interno dell'ordinamento della società inseriscono questo elemento morale che rende insufficiente un approccio soltanto intellettuale o soltanto reale alla educazione e apre lo spazio alla educazione morale, fa sì allo stesso momento che questa educazione morale non può rimanere all'interno dell'ordinamento finito e contingente, perché il fine e quindi la vera unità di questa realtà morale lo trova solo nella sua dimensione trascendente e di totalità. Ed ecco tutta la sistematica pedagogica di educazione in Rosmini. In questa chiave dell'attenzione dell'uomo relazionale verso un fine concreto assoluto, il Robertano individua un bisogno assoluto di relazionalità, bisogno che rende l'uomo allo stesso momento infinitamente piccolo, ma anche moralmente infinitamente grande, in quanto in questa prospettiva vale che l'uomo, e cito una delle più belle frasi e delle più citate di Rosmini in assoluto, in quanto l'uomo non è grande se non perché egli è bisognoso. Tale fine assoluto rimane però sempre astratto, fin quando non sia autorivelato agli uomini. Infatti Rosmini sottolinea che all'educazione non basta un fine meramente morale astratto per poter concepire l'unità integrale dell'educazione. Infatti essa acquisisce la sua integralità solo in vista del fine integrale, concreto, assoluto dell'esistenza umana. In tale modo allora il cristianesimo dà unità concreta e ordine non solo all'umano sapere, ma anche alle prescrizioni morali e all'educazione. Ossia, come evidenzia Rosmini, il cristianesimo ci ha fornito il regolo dell'educazione, come abbiamo già visto, e ciò in un duplice modo. In quanto essa ordina l'educazione al suo fine unico, ma anche per lo spirito specifico di unità che esso attribuisce all'educazione. Come istituzione educativa della pedagogia divina universale, il cristianesimo, con la rivelazione della sostanza trinitaria di Dio, ha portato quel concetto dell'unità triatica dell'educazione che dal lato astratto filosofico trova la sua unità nell'aspetto morale, ma dall'altro lato concreto e teologico nella religione, in quanto è essa l'integrazione reale della morale nella sua dimensione sopranaturale. Siccome il fine morale dell'educazione morale naturale rimane sempre astratto, la morale quindi rimane qui un puro imperativo, solo difficilmente esso si realizza nell'educazione. Rosmini non esclude un'educazione in chiave puramente morale, perché già la moralità all'interno dell'essere contingente corregge le unilateralità dell'essere puramente ideale o dell'essere puramente reale, dell'istruzione puramente concettuale, ossia dell'allenamento unicamente corporeo. Però questa moralità, questa educazione rimane ancora astratta. E Rosmini qui analizza tutta l'astrattezza di un imperativo contingente. Esso arriva alla sua concretezza solo nella luce del cristianesimo, solo quando conosce alla cima di tutti gli oggetti, come quell'istanza che dà unità e totalità all'intero ordine morale, all'intero ordine morale anche della società in quanto riconoscimento della dignità umana e della famiglia, sussidiariamente, in quanto riconosce proprio a questa istanza il valore incisivo. E così l'imperativo diventa concreto. Da un imperativo puramente astratto, segui il lume dell'estere, diventa l'imperativo concreto, ama gli esseri tutti. Da un'accezione puramente nociologica di ragione teoretica, di ragione pratica, si passa all'imperativo della personalità, ossia all'imperativo della carità, che è l'imperativo della religione. Qui il passaggio. Senza che Rosmini sminuisca il valore epistemologico di una morale puramente di ragione teoretica, ma nell'educazione che punta alla integralità, alla coerenza della persona in tutti i suoi aspetti, non solo in quello teoretico, ma anche in quello pratico, morale, in quella integralità dell'uomo che Rosmini traduce con la parola del cuore, ecco è lì la religione che secondo Rosmini dà l'unico, l'unica, l'unico realtà, l'unico principio, principio reale, concreto per l'educazione e infine poi anche per tutto il campo della moralità. Siccome il fine morale dell'educazione morale naturale rimane quindi astratto, solo difficilmente, abbiamo detto, esso si realizza nell'educazione. Invece è la realtà concreta della religione a realizzare direttamente quell'aspetto dell'unità dell'educazione di cui Rosmini analizza l'urgenza e la gravità. Riassumendo con Rosmini si può affermare che, e cito, la religione dimanda una educazione intera, mentre il senno dei mondani si appaga di una educazione smuzzicata e imperfetta. Fine della citazione. È la differenza specifica della realtà morale del cristianesimo, il comandamento dell'amore ad aver introdotto il criterio decisivo per l'educazione, perché, come dice Rosmini, esso si basa sulla conoscenza oggettiva dell'ordine, che viene moralmente riconosciuto ed appetito. In tal modo l'amore coinvolge non solo l'intelletto, ma anche il cuore e la vita dell'uomo. Nella dimensione sopranaturale, l'amore e la carità. All'unità del fine si aggiunge così l'unità del mezzo dell'educazione. Tale dimensione religiosa dell'educazione si trova filosoficamente fondata nella teoria morale del Robertano, in quanto Eli, sin dai principi della scienza morale, ha considerato assicurata e fondata l'oggettività dell'ordine morale in ultima analisi solo se trova la sua cima e il suo sommo criterio nell'essere supremo di Dio. Infatti, anche nelle sue opere pedagogiche, Eli afferma che in cima di tutte le cognizioni è Dio, per cui Eli è il principio ordinatore, e cito, di tutte le altre cose, e le altre cose debbono da lui ricevere la ordinazione. rispetto al nuovo saggio, c'è quindi da riassumere che mentre nosiologicamente si può concepire l'unità del sapere astratto sulla base meramente ideale dell'idea dell'essere, e questo abbiamo già accennato, la quale però questa base meramente ideale dell'idea dell'essere, nella sua dimensione oggettivo, metafisica, presuppone la trascendenza di un reale assoluto. In effetti anche questa dimensione c'è già dentro il nuovo saggio, l'aspetto ontologico di questa istanza nosiologica dell'idea dell'essere, che, come sottolinea Rosmini, non è soltanto forma della cognizione, quindi elemento nosiologico a priori, ma anche oggetto, e quindi ha una sua dimensione ontologica. E da lì già il nuovo saggio rimanda oltre se stesso, viene ripreso dalla teosofia che declina la integrazione metafisico-ontologica di questa realtà e dimostra come l'idea dell'essere acquisisce il suo fondamento metafisico soltanto all'interno della sua integrazione teosofica nell'assoluto essere. Ma mentre in un puro ambito nosiologico si può arrivare alla unità delle scienze, anche tramite il mero a priori nosiologico, l'unità della morale e dell'educazione, anche se filosoficamente concepibile, esigono direttamente, cioè più direttamente della mera conoscenza, la realtà dell'essere assoluto, in quanto indirizzano l'uomo positivamente verso questo suo fine. Nella loro riduzione immanentistica, morale ed educazione perdono la loro unità e quindi la loro oggettività in senso pieno, in quanto restano semplici imperativi e prescrizioni. Quindi una oggettività non piena, una oggettività ridotta, che spesso oggi viene poi chiamato come un mero legalismo o nell'educazione, una mera educazione attraverso il bastone, attraverso i precetti. Ad essa quindi resta semmai una oggettività puramente formale o intersoggettiva, cioè non perdono per questo e per forza la loro oggettività, ma non è più la oggettività piena e non indirizzano più l'uomo verso la sua perfezione virtuosa e concreta. E con questo arriviamo per la seconda parte dell'odierno videocorso alle conseguenze didattiche del concetto rosminiano dell'educazione. Dopo l'analisi pedagogica del concetto di educazione in Rosmini, il nostro squadro si concentra ora sull'ulteriore aspetto trattato nelle rispettive opere del roveretano. Innanzitutto del principio supremo della metodica e di alcune sue applicazioni in servizio dell'umana educazione, tutto un titolo intero, pubblicato solo postumo nel 1857, Rosmini riflette sul metodo come didatticamente trasmettere i contenuti dell'educazione. Il metodo didattico, quindi che non è il metodo educativo. Qui il metodo didattico, che fa parte del metodo educativo, stabilito già in del principio supremo e applicato anche nel catechismo, è il processo dal noto all'ignoto e come tale Rosmini lo riprende già da Platone, anche se lo formula come conseguenza diretta dalla sua teoria della conoscenza esposta nel nuovo saggio sull'origine delle idee. Ossia che il supremo principio del metodo didattico consiste, così Rosmini, nel rispettare l'ordine delle intellezioni. Quindi se io voglio trapassare una informazione ad un altro e voglio che egli la capisca, devo mantenere un certo ordine perché le intellezioni, perché le nozioni stanno intellettualmente, nel loro ambito ideale siamo adesso, in un certo ordine. E io trapasso qualcosa se questo è un ignoto che si rifà ad un noto. Cioè l'ordine delle conoscenze nelle sue distinzioni e disposizioni secondo la, come la chiama Rosmini, la legge dei pensieri. Questa legge dei pensieri afferma che ciascun pensiero serve di materia o somministra la materia ad un altro pensiero, in modo tale che si stabilisce un ordine di pensieri, anzi un ordine dei diversi ordini dei pensieri e quindi delle intellezioni. Allora il metodo che deriva da questa legge, Rosmini precisa che così anche il metodo didattico risulta unico come il fine e il mezzo è il metodo dell'educazione, quindi in quanto tale il metodo didattico partecipa alle caratteristiche di fine, mezzo e metodo dell'educazione, viene definito in questo modo e cito la definizione di Rosmini del metodo didattico, si rappresentino alla mente del fanciullo e si può dire in generale dell'uomo, perché in questo Rosmini non fa nessuna differenza, primariamente gli oggetti che appartengono al primo ordine di intellezioni, di poi gli oggetti che appartengono al secondo ordine di intellezioni, poi quelli del terzo e così successivamente. Di maniera che non avvenga mai che si voglia condurre il fanciullo a fare un'intellezione di secondo ordine senza essersi prima assicurati che la sua mente fece le intellezioni a quella rispettive del primo ordine e il medesimo si osservi con le intellezioni del terzo, del quarto e degli altri ordini superiori. Fini di questa definizione complessiva, come penso, di Rosmini. Questo metodo abbiamo citato secondo l'opera del principio supremo, ma lo troviamo in una formulazione quasi identica nella prefazione al catechismo. In questa prefazione Rosmini lo dessume dall'opera agostiniana De Catechizandis Rudibus, che egli ha tradotto, come abbiamo già visto, a 28 anni e quindi sempre dalla tradizione platonica. Allo stesso momento è questo quindi il metodo che distingue il catechismo di Rosmini rispetto ai vari catechismi in uso al suo tempo, ossia di condurre la mente del discepolo infedele, uguale se sia fanciullo o adulto, basta che è un discepolo infedele che deve essere instruito sulla fede cristiana, che arriva quindi alla chiesa per farsi cristiano e come deve succedere questa condotta della spiegazione in modo didattico, Rosmini dice, dal noto all'ignoto e dalla cognizione dell'uomo alla cognizione di Dio. Tale graduazione della trasmissione del sapere si basa evidentemente sui fondamenti nociologici del nuovo saggio. Come il metodo del nuovo saggio si sviluppa in confronto con il pensiero moderno a partire dalla conoscenza del soggetto, ma si distingua allo stesso momento dal metodo cartesiano nel non essere scettico ma osservativo? Anche il metodo educativo per Rosmini si caratterizza in questa materia. Maniera? Ossia guidando lo sviluppo dell'educando tramite questo metodo dell'osservazione. Nella logica, infine, Rosmini formula lo stesso principio in una nuova definizione e dice, «Le verità che si vogliono comunicare si devono distribuire in una serie, nella quale la prima verità non abbia bisogno per essere intesa delle verità che vengono inapresso. La seconda abbia bisogno della prima, ma non della terza e delle sue seguenti. E così, in generale, ciascuna si intenda, mediante le precedenti, senza che siano necessarie alla sua intelligenza quelle che non sono ancora annunciate, ma restano ad annunciarsi». Rosmini sottolinea, però, che tale metodo non è specifico solo per l'educazione dei giovani, ma che è invece universale e applicabile, come abbiamo già accennato, a qualsiasi età. Ugualmente esso vale per qualsiasi materia di insegnamento, e quindi anche per l'insegnamento della fede nel catechismo. Infatti, proprio l'educazione cristiana è animata dai principi di unità e totalità. E innanzitutto, sottolinea Rosmini, la Sacra Scrittura non sarebbe semplicemente destinata all'educazione dei fanciulli, ma di tutti, e in questa dinamica Elie elabora sei caratteristiche della religione, in chiave educativa, ossia rivelata, giusta, bella, sapiente, vera, utile. Contemporaneamente, queste caratteristiche vengono indicate come il metodo di insegnare il catechismo. Ma Rosmini prende sul serio anche lo sviluppo del fanciullo ed elabora nel principio, sopra il metodo, un'analisi psicopedagogica sui vari momenti di sviluppo delle facoltà intellettive e volitive umane. In questa sua indagine, rimasta purtroppo incompiuta, il rovaretano arriva fino all'età di tre o quattro anni. Fino a tre o quattro anni Rosmini analizza tutti gli stadi dell'educazione del fanciullo e quindi tutti gli stadi dello sviluppo delle sue facoltà conoscitive. Da questa attenzione allo sviluppo reale delle facoltà intellettive del fanciullo, nonché della sua esperienza concreta che Rosmini ha potuto fare, soprattutto durante il suo anno pastorale, che quando era parroco a San Marco, a Rovaretano nel 1834-1835, risulta quel metodo importante che si realizza soprattutto nel catechismo. e che non è quella della mera dissuazione istruttiva, ma mira al radicamento delle informazioni trasmesse nell'interno del fanciullo da formare, quindi nel suo cuore e nella sua vita, per cui si conferma nuovamente che l'educazione, secondo Rosmini, deve essere indirizzata sul suo intelletto e sulla sua volontà libera, su entrambi e non solo sul primo, cioè sull'intelletto. Già nel saggio sull'unità dell'educazione, Rosmini formula tale principio come precetto concreto all'educatore. «Eli non deve soltanto preparare la materia didatticamente, ma deve avere ben presente anche tutte le circostanze dell'allievo, della famiglia onde nacque, della facoltà dell'ingegno suo, dei suoi sensi o arditi naturalmente generosi, o placiti e attemperati». A questa attenzione del maestro abbiamo fatto già cenno. L'educazione non è una tecnica o un'organizzazione, ma una realtà morale che si realizza nella relazione interpersonale concreta. Infatti, se l'unità totalità dell'educazione si articola metodologicamente negli aspetti triatici di intelletto, cuore, vita, allora la pedagogia si deve occupare anche del fatto come i contenuti raggiungono concretamente l'intelletto dell'educando. Quindi il metodo didattico non è per niente da sottovalutare, perché affinché possiamo avere un concetto integrale di educazione, un concetto che considera le dimensioni del cuore e della vita, della integralità della persona e del bene morale che ne segue, ci vuole comunque sempre il momento iniziale che le nozioni devono arrivare all'educando, che le nozioni li devono comunque arrivare. Poi lo devono penetrare, giungere al cuore e formare la sua vita. Ma tutto questo passa attraverso l'intelletto, perché altrimenti abbiamo dei sistemi educativi che non si basano sull'autonomia, sulla coerenza, sulla dignità dell'educando, ma lo trattano come un semplice mezzo. Si formano alcuni momenti della sua natura, ma non si educa, non si forma la sua persona. Ecco, di nuovo, la importanza di questa distinzione rosminiana, come l'abbiamo analizzata già nelle puntate precedenti. Questo confluisce nel metodo didattico di Rosmini rivolto al come bisogna trasmettere i contenuti epistemologici del sapere. Significativamente il roverettano anteponeva allo scritto del supremo principio sul frontespizio stesso il nucleo del suo metodo didattico. E dice, io stimo avervi qualcosa di scientifico destinato a divenire popolare, e questo scientifico è tutto ciò che si attiene alla verità. Infatti, come ho già visto, l'opera si dedica al metodo espositivo di insegnare la verità e le condizioni. E se già nelle riflessioni finali di sull'unità dell'educazione Rosmini tratta del problema dell'unità del metodo, egli esplicita in una fase molto presto della sua riflessione un primo momento della sua unità triadica di intelletto-cuor-vita. Riguardo all'intelletto, Rosmini avverte che l'esigenza di chiarezza non conduce a superficialità, ma che deve venire mantenuta la diligenza nell'aggiustare e perfezionare le idee in cui consiste la solidità del pensare e della logica pratica. Metodicamente, il cuore sta per quell'arte che non si riduce al mero insegnamento, ma che cerca di rendere le nozioni care ai destinatari. Infatti, la cosa principale è quella di ridurre la vita del giovane in perfetta concordia con gli insegnamenti, dice Rosmini. Proprio in quest'ultimo aspetto, Rosmini scopre grandi inadipienze nella sua epoca. Pochi gli insegnanti che possono essere ritenuti veri e propri esempi. L'esempio, quindi, prefigura tipicamente la sintesi umana nelle sue facoltà moltepliche che corrisponde antropologicamente alla sintesi dell'oggetto dell'educazione. Adunque, dice Rosmini, adunque lo spirito della nostra religione vuole che consideriamo l'uomo tutto insieme, vuole che tutto in esso armoniosamente proceda. Debbono armoneggiare le scienze, debbono armoneggiare le facoltà. L'armonia delle scienze è la somma legge nel trattato degli oggetti dell'educazione. L'armonia delle facoltà è la somma legge nel metodo. Tale dimensione didattica, ovviamente, vale non soltanto per l'insegnamento morale, ma anche per quello sopranaturale, ossia della dottrina cristiana. Quest'ultimo compito viene esposto e teoreticamente realizzato dal Catechismo. Esso è dedicato all'insegnamento della dottrina e tratta quindi della gestione metodologica dell'insegnamento dei contenuti dogmatici della fede. Compito specifico all'interno della complessività dell'educazione tra unità e totalità. Così è da sottolineare proprio in questa prospettiva del Catechismo che se Rosmini didatticamente pretende che la trasmissione del sapere deve essere resa più semplice, allora questo non significa che deve anche essere più facile. semplicità non può mai essere identificata con facilità nel senso della riconduzione di nozioni difficili alla superficialità di un materialismo facile. Il rovaretano si rivolge vehemente contro un tale materialistico spirito di superficialità col pretesto di facilità come si esprime. Il che sarebbe stato introdotto nelle scuole con la conseguenza che esse furono ridotte ad occuparsi quasi interamente di oggetti materiali e a sorvolare sulle cose morali con la stessa leggerezza onde si può fare con quelle. Rosmini distingue a questo punto tra gli oggetti materiali dell'insegnamento che nulla abbiano di profondo e perciò si può studiarlo con celerità dilettevole da un lato e delle verità morali dall'altro. Tutt'altro dice Rosmini è il procedere del pensiero nelle verità morali appunto per la profondità inesauribile dell'oggetto. Rosmini in effetti critica l'impazienza dello spirito materiale e il rifiuto dello stesso nei confronti della lentezza del ragionamento morale. L'insegnamento del catechismo in quanto insegna le verità morali soprannaturali non può fermarsi alla superficialità dei dati materiali ma il vero fine della dialettica della didattica in questo caso è interiore. Il vero fine della didattica è interiore. tale successo però non dipende più da nessuna tecnica e da nessun maestro in quanto anche la migliore didattica e l'ottimo maestro possono solo preparare le condizioni migliori affinché avvenga il momento decisivo all'interno dell'educando momento che da Agostino a Gadamar è stato tematizzato come un momento di meraviglia come una meraviglia in quanto un uomo può solo contestarlo costattarlo è una meraviglia in quanto l'uomo può solo costattarlo perché secondo l'insegnamento dei maestri cristiani dell'educazione a realizzarlo è un altro ossia il maestro interiore ed ecco qui il punto dove avviene veramente il momento personalistico è trascendente dell'educazione il momento dove finiscono tutte le preparazioni tutta la organizzabilità è avviene qualcosa che in un ordinamento di educazione possono essere messe solo le basi possiamo cercare di mettere le basi più favorevoli ma poi avviene qualcosa che non sta più nelle mani del maestro questo starà poi verso la fine del nostro corso alla base della grande intuizione di Rosmini della libertà dell'insegnamento che è una libertà morale ma che già adesso subito nella prossima puntata ci fa riflettere sul momento centrale della nostra tradizione occidentale cristiana di riflettere sulla educazione ossia del tema del Cristo interiore del maestro interiore della dimensione cristologica dell'educazione in questo senso grazie per l'ascolto e alla prossima volta